E invece ora ho beccato una persona che io ho visto, a parte Giovanni Malagò che è qua. Mi fai un pedale? Un pedale? Così. C'è un musicista, un jazzista tra di loro che è pazzesco. Dov'era? Dov'era? Non lo vedo. Non lo vedo. Non lo vedo. Eccolo. Geggete Lesforo. Vieni, vieni un attimo, vieni. A sorpresa, tieni questo. Allora, una delle particolarità di Geggete Lesforo, lo so, lo so, e non ti preoccupare, e non ti preoccupare, una delle particolarità di Geggete Lesforo è che lui sa fare benissimo, è lo skat. Cos'è lo skat? È un modo di cantare senza dire nessuna parola, cioè tipo così, sillabare, tipo così. Mettiamoci più qua che si sente meglio. Prova, prova. Tres, 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 tres... Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì.